Eravamo sicuramente più poveri, avevamo avuto una guerra particolarmente sanguinosa, l'Italia faceva estremamente fatica a garantire non il benessere ma la sopravvivenza ai suoi concittadini e quindi per quanto oggi ciascuno di noi in alcuni momenti si possa far prendere dallo scoramento perché può avere un figlio che magari dopo una laurea non trova lavoro, può avere una difficoltà una giovane coppia a trovare una casa. Sono tanti i portati della crisi perché anche noi usciamo non dalla guerra ma da una crisi che dopo dieci anni ha sicuramente falcidiato il ceto medio, ha messo a dura prova la borghesia e ha creato comunque profonde diseguaglianze. Abbiamo in Italia sei milioni di poveri, quindi anche noi viviamo un momento nel quale l'oscuramento è forte. Però la differenza tra ieri e oggi è che ieri la parola chiave era il riscatto e la fiducia, la voglia di farcela e i racconti dei lettori dimostrano che chi si impegnava per costruire una casa, chi si impegnava magari a lavorare di giorno e a frequentare una scuola serale per acquisire competenza nei momenti della sera appunto quando era libero del lavoro, chi si impegnava a costruire una piccola impresa ma ciascuno aveva la consapevolezza che nulla si ottiene senza sudore e senza fatica, che nessuno ti regala niente, che per farcela però occorreva avere un atteggiamento positivo, un atteggiamento, il coraggio, la fiducia, la voglia di riscatto e quindi si andava a letto la sera con preoccupazione ma ci si risvegliava la mattina con l'idea che qualcosa di positivo sarebbe successo. Oggi come ha detto Marco prima l'Italia appare come un paese di cattivo umore e penso che delle ragioni ci siano perché molti talenti sono frustrati per un imprenditore, molte volte l'imprenditore ha la sensazione di avere uno stato ostile, di dover combattere contro la burocrazia e di dover non solo fare fatica ma di vedere frustrata la sua voglia di realizzare il benessere, l'occupazione e questo vale per tanti cittadini, vale in modo particolare nel mezzogiorno, d'altronde se abbiamo due milioni di giovani che non lavorano e non studiano è perché evidentemente la sensazione della frustrazione, di un disagio, di una sfiducia è molto forte. E qui viene il compito della politica che oggi è quello innanzitutto di avere per poter poi dare una visione. Non credo che sia la questione dei singoli provvedimenti, non si tratta semplicemente di giorno in giorno nella quotidianità produrre leggi e atti amministrativi, no. Si tratta di indicare all'Italia una direzione, perché credo che questo sia il compito della politica, non è quello di sommare i like su Facebook o di cedere all'insulto sulla rete piuttosto che all'invettiva. Il compito più nobile e più alto della politica se ne è in grado è quella di indicare una direzione. E allora se vogliamo cogliere il positivo di quella fase della ricostruzione in cui l'Italia ce l'ha fatta, anch'io penso che sia sbagliato e magari in questo errore incorro anch'io come madre il voler dare tutto ai nostri figli, il voler in qualche modo aiutarli rendendoli un po' più deboli. Invece anche se oggi sembra che siamo nella stagione della tecnologia e quindi della velocità in cui si può fare un acquisto su Amazon in 30 secondi, tutto è molto veloce, le cose che contano costano fatica, tempo, pazienza e fiducia. E quindi se noi non ricostruiamo il nostro modo di essere cittadini, di essere italiani, andiamo poco lontano. Penso anche che la politica abbia i suoi limiti e quindi non è che si possa calare dall'alto delle soluzioni. Questa non è la stagione della delega. Io non sono proprio per l'uno vale uno, ma sicuramente essere cittadini, avere un senso di attaccamento a questo Paese, vuol dire che ciascuno in proprio in qualche modo fa politica. Fa politica anche il commerciante che apre il negozio la mattina, che dà lavoro a delle persone, che mantiene la sua famiglia. Ciascuno mette un mattone alla costruzione dell'Italia. L'importante è voler costruire e non distruggere. L'importante è non vivere di nemici veri o immaginari o di acchiappafantasmi. Perché se invece la politica è debole nelle soluzioni, non ha visione e se la cava, lisciando il pelo della propaganda, della paura, dell'invidia sociale, della contrapposizione, ho idea che siamo lontani dallo scontro tra l'ADC e i comunisti. Siamo, come dire, in una situazione in cui si cerca di conquistare il consenso allontanandoci dalla realtà delle cose. E poi la realtà ha la testa dura e impone i suoi tempi e la sua visione delle cose. Allora, anch'io credo che in questo momento, se dopo la guerra, si è riusciti a ricostruire questo paese, deve essere possibile ricostruire il ponte di Genova. Non possiamo arrenderci di fronte a quel crollo, a quei morti. E la soluzione non è trovare un nemico. La magistratura faccia il suo corso, se qualcuno ha sbagliato paghi, però poi il compito della politica è ricostruire a tutti i costi quel ponte. Non si possono metterci dei mesi per decidere che il commissario è naturalmente il sindaco di Genova. Perché no? Perché è di Forza Italia. Perché è il sindaco di Genova, no? Poteva essere del PD, del Movimento 5 Stelle. È naturale nominare. Bastano 24 ore per nominare il commissario. E da lì partire con la ricostruzione. Penso che non sia una sfortuna essere italiani, anche se si è nati nel mezzogiorno, perché i termovalorizzatori si possono costruire. Io penso che l'approccio, se vogliamo prendere l'insegnamento che ci viene dai nostri nonni, dagli italiani che con coraggio ce l'hanno fatta, oggi vuol dire che il nostro compito, la nostra sfida, non è quella di cedere alle paure, di cedere allo sconforto, di trovare alibi o di trovare nemici, anche quando si va in Europa. De Gasperi è stato un profondo europeista. Non pretendo che si pronunciano le sue parole, pronunciate che tu hai ricordato prima. Tutto mi è contrario, tranne la vostra personale cortesia. Però non si può nemmeno fare a cazzotti con i commissari europei. Combattiamo tanto il bullismo nelle scuole e poi abbiamo a livello nazionale la politica dei bulli. Pensiamo di fare l'interesse degli italiani andando in Europa e prendendo a picconati i commissari che comunque, piaccia o non piaccia, dovranno giudicare la nostra manovra? Io, in questa direzione, anche se a volte è fatta da alleati del centrodestra, non mi ci ritrovo per niente. Non faccio politica per seguire le paure, per cavalcare l'invidia sociale e per fare le battaglie contro i vaccini. Non faccio politica per queste ragioni. E credo che l'Italia non abbia bisogno di questo. Ha bisogno di una condivisione delle responsabilità, ha bisogno che ciascuno metta un mattone alla ricostruzione, ma passa nemmeno dal pulirci la coscienza dicendo che questi giovani non hanno un lavoro, diamogli la paghetta di Stato, diamogli l'assistenzialismo. Perché io credo che ogni cittadino, ogni italiano, deve potersi autodeterminare, deve potersi essere libero di costruire il suo percorso di vita. E allora il compito della politica è quello di pensare a delle buone scuole. Mi spiace quello che hai scritto sulla scuola. Mi spiace molto. Perché sei un osservatore attento come te, liquida queste riforme, dicendo il centrodestra ha fatto, spero che tu ce l'avessi con Tremonti e non con me, ma se ce l'avevi anche con me, mi dispiace perché mi sento la responsabilità invece di aver cercato di introdurre, per esempio, nell'università il merito, di avere fatto un'anagrafe sull'edilizia scolastica, di avere valorizzato il maestro prevalente perché penso che mia figlia debba avere un insegnante di riferimento che sia per lei, per tutta la vita, una persona da ricordare e che sia fondativo della sua formazione, della sua educazione. Sono state fatte tante cose, però certo condivido anch'io che la scuola è un tema assolutamente centrale, però se ce l'hanno fatta allora. Dipende da noi volercela fare oggi. E se vogliamo farcela, è chiaro che non possiamo costruire alibi, non possiamo costruire assistenzialismo, dobbiamo costruire benessere, partendo dal lavoro, partendo dalla scuola, partendo dalle infrastrutture e anche da questa straordinaria opportunità che è il mezzogiorno. Ecco, queste sono le riflessioni che il tuo libro mi ha suggerito e credo che ciascuno di noi può trovare qualcosa di buono da poter fare come italiano, senza delegare alla politica o senza aspettare salvatori della patria. C'è un punto nel tuo discorso su cui sicuramente possiamo concordare, il fatto che tra gli italiani di cui possiamo essere orgogliosi ci sono gli insegnanti della scuola pubblica che hanno tenuto duro in questi anni e non è facile avere a che fare con adolescenti che sono molto diversi da come eravamo noi la loro età. Basta pensare alla rivoluzione digitale e come li ha cambiati. Io girando l'Italia trovo tanti italiani che hanno tenuto duro in questi anni, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, gente che intacca il patrimonio personale pur di non lasciare a casa i loro operai, i loro dipendenti, che sono la loro famiglia. Mi piace pensare agli ridicolanti, agli ibrai, persone che lavorano con la carta che sta morendo e invece loro tengono duro. E mi piace pensare alle donne. È vero che l'Italia oggi resta un paese maschilista, ci sono ancora discriminazioni, violenze e ingiustizie. Ma l'Italia dei 70 anni fa che racconto nel libro era un paese molto più maschilista. Si diceva auguri e figli maschi. Una coppia ebbe, una bambina la chiamò Nilla come Nilla Pizzi, poi ebbe un altro figlio, una bambina, un altro figlio e una bambina. Il papà disse andiamo avanti finché non arriva il maschio. Ebbero 35 figli, tutte femmine. È attestata la cosa. Nel 70 nacque l'ultima, alcuni erano gemelli, nel 70 nacque Romina, come Romina Power e la RAI intervistò questa donna che era il record mondiale, 35 figli, tutte femmine. A Palermo un papà rifiutò di andare a visitare la moglie dopo il parto perché aveva fatto una femmina e diceva non puoi averla fatta con me, con me avresti fatto il maschio, l'hai fatta con un'altra. Sono andato a rivedermi la posta del cuore di quegli anni. Su Grazia rispondeva Clementina che un giorno riceve la lettera di una ragazza, Lillina, che dice ho 20 anni e non ne posso più. Sono sposata, ho già due bambini, mio marito mi tratta come una schiava, devo badare a lui, a sua mamma, a sua zia, non è l'amore che sognavo. E lei risponde cara Lillina, rassegnati, tu devi obbedire a tuo marito, organizzati meglio, sveglietti prima al mattino, portagli il caffè a letto, fagli un bacio, poi lava, stira, ramenda, ti concedo un sonnellino con i bambini, ma alle tre ti voglio vedere di nuovo al lavoro, ecco quella era la solidarietà femminile. Mentre su oggi rispondeva Donna Letizia, con le trosselle, la moglie di Montanelli, autrice del saper vivere, un galateo che i miei mi regalarono quando avevo compiuto dieci anni, siccome dicevano che ero maleducato perché rispondevo, allora mi regalarono il galateo di Donna Letizia e c'era un capitolo che spiegava come mettere a tavola un'altezza reale e un cardinale, quale mettere i due alla destra della padrona di casa. Io chiedo mamma, quando è che noi abbiamo un cardinale e un'altezza reale? Allora, c'è una lettera bellissima, una ragazza che dice cara Donna Letizia abbiamo fissato la data del matrimonio però il mio fidanzato vuole correre, mi chiede la prova d'amore, che faccio? Risposta di Donna Letizia figliuola ma correte pure, ma che la prima tappa sia l'altare. Erano anni in cui anche l'amore aveva componenti di classe sociale, Lina Merlin, la donna che si batte per chiudere le case di tolleranza era odiata e dileggiata dagli uomini ma a volte anche dalle donne, le mamme chiedevano ma come faranno i nostri figli a imparare e Lina Merlin rispondeva impareranno con le coetane cosa che adesso pare ovvia ma l'epoca era rivoluzionaria all'epoca le ragazze di buona famiglia dovevano arrivare o fingere di arrivare in libata al matrimonio mentre con la cameriera il padrone pensava di potersi prendere delle libertà nascevano 35.000 bambini ogni anno figli di ragazze nubili che erano andati a servizio a casa ad altri erano figli di NN nation homen e non avevano nessun diritto Teresa Mattei partigiana comunista il fratello Gianfranco muore sotto le torture dei nazisti lei è la più giovane deputata eletta alla costituente ma resta incinta di un uomo che non è suo marito e Togliatti le dice che deve abortire lei rifiuta dice io amo quest'uomo voglio tenere il bambino ma Togliatti le avvisa non ci sono ragazze madri in Parlamento e Teresa risponde vorrei dire che le rappresentero io Togliatti non la ricandida il partito la espelle per indegnità morale ma il suo bambino nasce e lei lo chiama Gianfranco come il fratello ucciso dai nazisti e anche Anna Magnani era figlia di NN il papà se n'era andato e la mamma era fuggita con un tedesco in Egitto e Anna Magnani è cresciuta con cinque zie tutte sarte una si chiamava Italia e con la nonna e si vergognava moltissimo di aver scritto NN sulla carta d'identità aveva un po' la sindrome dell'abbandono ed ebbe la cattiva idea di mettersi con Roberto Rossellini il regista di Roma Città Aperta che però aveva già scritto un altro film per Anna Magnani Stromboli in cui la protagonista è una giovane donna bruna con i capelli neri con l'area mediterranea che sposa un pescatore e va a Stromboli ma nel frattempo Rossellini ha ricevuto una lettera da Ingrid Bergman l'attrice più famosa del mondo l'attrice di Casablanca che scrive caro maestro visto i suoi film sono meravigliosi se ha bisogno di un'attrice svedese che parla perfettamente l'inglese e in italiano sa dire solo ti amo sono a disposizione non era un avance era una citazione in un film di quegli anni Arco di Trionfo Ingrid Bergman dice ti amo in italiano ma quel film Rossellini non l'aveva visto pensò ad un avance si precipitò a Hollywood si fidanzò veramente con Ingrid Bergman e riscrisse il film Stromboli l'attrice da Mediterranea diventava una nordica con gli occhi azzuri e i capelli biondi e andò a girare Stromboli con Ingrid Bergman Anna Magnani però tiene il punto e dice voglio girare lo stesso film con un altro regista su un'altra isola Vulcano le isole eolie vengono sconvolte dalla rivalità tra le due attrici le due troupe e a Vulcano Anna Magnani conosce un bel ragazzo grande e grosso che lei chiama Colosseo e gli affida una missione segreta dice tu devi andare a Stromboli piacerai a Rossellini fatti prendere come comparsa torni qua e mi riferisci tutto Colosseo va a Stromboli piace a Rossellini viene preso come comparsa ma ha la cattiva idea di riferire la verità ad Anna Magnani che Rossellini e la Bergman si amano davvero la Magnani impazzisce di gelosia prende Colosseo lo butta sul letto gli si getta addosso come Asia Argento con Jimmy Bennett secondo la versione di Jimmy Bennett cui noi ovviamente non crediamo e i due si fidanzano e la Magnani si porta Colosseo a Roma gli fa trovare un guardaroba pieno di vestiti e di scarpe solo che Colosseo non ha mai messo un paio di scarpe in vita sua esce a fatica con questi mocassini va a cena con la Magnani e i suoi amici Federico Fellini e Ennio Flaiano si annoia un po' e poi quando il gruppo va a fare una passeggiata in via Veneto Colosseo non ne può più si toglie le scarpe le infila una nella tasca destra della giacca l'altra nella tasca sinistra e va in giro a piedi nudi Fellini e Flaiano scoppiano ridere si tolgono anche loro le scarpe un fotografo scatta i giornali pubblicano la foto col titolo Anna Magnani lancia la moda degli uomini a piedi nudi e questo è il brano del libro in cui racconto la reazione di Anna Magnani quando scopre che il suo uomo Roberto Rossellini sta intrigando con Ingrid Bergman e poi ascoltiamo io metto il professore Corsini ti chiudiamo grazie Anna averti subito il pericolo di essere tradita due volte nell'arte e nei sentimenti era in vacanza ad Amalfi con Roberto all'hotel Luna quando fu raggiunta dalle prime voci il suo uomo era in contatto con la Bergman Rossellini in effetti aspettava un telegramma da Ingrid per fissare il primo appuntamento e aveva dato ordine al direttore dell'albergo di avvisarlo in gran segreto ma il cameriere non aveva calcolato l'intuito della Magnani così quando si chinò all'orecchio del regista per dirle che l'atteso messaggio era arrivato Anna fece finta di nulla e continuò a condire gli spaghetti al pomodoro aggiungendo altra salsa dal piatto di portata va bene così Robè sì grazie Anna bene eccoti lì e gli rovesciò il piatto in testa i due si riappacificarono ma per poco Rossellini preparava la fuga per raggiungere la Bergman a Hollywood e la mattina del 17 gennaio 1949 dopo una notte in sonne si alzò molto presto Anna si svegliò di soprassalto che c'è niente non ho sonno porto i tuoi cani a passeggio lei si girò dall'altra parte ma lui affidò i cani al portiere all'excersior e sparì bene questi interventi che Aldo Cazzullo ci ha esposto dicono io ritengo il proprio di questo testo e di questo contributo di cui stasera appunto si discute io devo dire che l'ho letto in parallelo con il romanzo di Antonio Scurati dedicato a Mussolini il parallelo può sembrare come dire del tutto improprio ma in realtà i due testi definiscono un ambito assolutamente simile non potremmo come dire definirli testi strettamente storici ma testi di una aneddotica che si fa storia e che è fondamentale per capire la storia per capire un clima per capire un costume una mentalità per cogliere comportamenti e stili di vita e del resto questo credo sia la fondamentale caratteristica dei libri di Cazzullo che abbiamo presentato anche in questa sede come la guerra dei nostri nonni del 2014 o Posse il mio sangue servire del 2015 un'aneddotica che dice di una storia di sacrifici di rinunce di tenacia di gusto del rischio e di determinazione l'espressione di una grande volontà di riscatto e di rinascita c'è un termine nel libro del quale peraltro Cazzullo si perita di proporre l'etimo entusiasmo tu citi solo la prima parte enzeo c'è la seconda entusiasmo e tsumos in greco il coraggio in questo caso il coraggio di chi detiene appunto una fede e credo che questo peraltro dice della distanza rispetto al nostro tempo un libro di storia come nei termini che prima riferivo come quello di Cazzullo ha senso anche perché in qualche misura ci propone un confronto col presente e l'Italia di oggi non è l'Italia del coraggio l'Italia dell'entusiasmo l'Italia della fiducia l'Italia che sceglie consapevolmente il proprio cimento è l'Italia della rabbia è l'Italia del rancore è l'Italia della sfiducia è l'Italia come dire un paese di rassegnati addirittura nella conclusione Cazzullo evoca la categoria appunto dell'ignavia un paese di impauriti un paese che non ha più il coraggio di assumere compiutamente le proprie sfide e che addirittura della paura come dire fa una delle ragioni del successo diciamo così in politica la gestione dei circuiti delle paure delle ostilità latenti e diffuse nel corpo sociale diventano diciamo così le leve attraverso le quali si può organizzare il consenso e acquisire una sorta di supremazia politica credo che questo sia come dire assolutamente assolutamente indubitabile questo libro peraltro dal punto di vista della lettura di uno storico io ho un duplice privilegio il primo preferirei non averlo avendo una certa età quegli anni Aldo li ho vissuti io ho vissuto a Rudiano nella bassa quando i miei compagni di classe alle scuole elementari portavano forse tu non conosci questa parola dialettale i trocoi i trocoi erano quegli zoccoli di legno incamminabili per molti versi ho conosciuto quando i miei compagni facevano colazione alla mattina con latte e le biline o con la patuna che sono appunto la farina appunto di castagne questo è il mio privilegio ho il privilegio poi di per la scelta professionale che ho compiuto di essermi dedicato appunto alla ricerca storica e questo tuo libro ha una particolare singolarità che costituisce dal punto di vista mio sotto un profilo storiografico un significativo guadagno in questo partito non in questo libro non compaiono le istituzioni non compaiono i partiti non compaiono i sindacati non compaiono i grandi movimenti collettivi che sono la trama dei libri degli studiosi che ex professo si dedicano all'età della ricostruzione recentemente Agostino Giovagnoli Guido Crainz Massimo Luigi Salvadori hanno scritto dei manuali dedicati esattamente a questo periodo storico tu invece e questo è il guadagno che arrechi alla storiografia e a chi professionalmente si occupa di storia parli dei nostri padri e delle nostre madri restituisci un volto una riconoscibilità degli sconosciuti a dei personaggi anonimi di chi ha dato il proprio contributo fondamentale a ricostruire l'Italia e credo che questo possa essere un giudizio condiviso ci ha consegnato un paese libero un paese democratico un paese moderno e un paese appunto industrializzato questa è l'eredità che noi abbiamo sostanzialmente ricevuto un'eredità che naturalmente va rapportata anche a lungimiranza lo citavi anche Follini prima richiamava questo aspetto di alcuni leader politici penso in modo particolare a De Gasperi che ha portato il paese alle tre scelte fondamentali l'ordinamento liberal democratico la collocazione occidentale e l'economia sociale di mercato c'è un unico appunto che mi permetterei di farti io darei un giudizio non così come dire critico nei confronti di Dossetti che per molti versi ha rappresentato diciamo così una presenza straordinaria perché ha dato a De Gasperi l'idea di che cos'è un partito organizzato perché ha tematizzato fino in fondo la questione della dignità della persona ed è questo un tema di straordinaria attualità oggi se accettiamo la lezione per esempio di una Mazzucato ha spiegato che lo Stato uno Stato naturalmente democratico pluralista moderno può avere un ruolo nel rilancio e nella come dire nelle politiche di crescita di investimento di cui oggi noi abbiamo bisogno io mi limiterò a richiamare tre o quattro aspetti che dicono il senso che il tuo libro può avere per chi come dici nella quarta di copertina deve riflettere sul fatto che nel 48 noi abbiamo gli italiani dopo la guerra e nel 2018 gli italiani dopo la crisi tre o quattro punti il primo c'è direi una moralità di fondo in questi italiani non solo nei personaggi di primo piano di cui tu in modo estremamente brillante evochi gli aspetti fondamentali della biografia gli Olivetti e i Mattei Valletta gli Einaudi e così via o quando richiami i grandi personaggi prima citavi dello sport del varietà della musica della rivista e così via qual è la caratteristica di fondo è che costoro sono consapevoli che il loro impegno è la ricostruzione questo ci dice che oggi il dovere della politica è la ricostruzione e non la rottamazione e che per ricostruire bisogna radicarsi in fondo in una valorizzazione delle grandi tradizioni politiche che hanno consentito la rinascita di questo paese seconda osservazione un paese ha bisogno di reggersi sulla ripresa delle proprie basi materiali la ricostruzione è retta sul fatto che il paese ha ricostruito le proprie basi materiali prima si produce la ricchezza e poi la si distribuisce questa è la lezione ad esempio di Valletta o la lezione di Mattei personaggi politicamente molto diversi molto distanti ma comunque accomunati da questa consapevolezza un paese si ricostruisce si produce ricchezza e poi la si distribuisce quindi seguo perfettamente la riflessione di Maria Elena Boschi quando sostiene che non si possono fare politiche di sviluppo e di rilancio di un paese sulla base di scelte di tipo puramente assistenzialistico che non sono appunto produttive che non producono lavoro che non producono diciamo così rilancio delle politiche industriali che non vanno al fondo delle contraddizioni storiche della vita pubblica di questo paese terzo aspetto da questo libro emerge una lezione fondamentale ci fu un'alleanza storica che consentì la rinascita del paese e fu l'alleanza fra la politica la cultura intesa anche come scuola il lavoro e l'impresa se noi passiamo in lettura in filigrana le biografie dei personaggi che tu presenti è ineludibile questo richiamo mi sono